Nelle ultime ore è morto uno dei più grandi campioni della storia dello sport, Cassius Clay Mohamed Ali. Ci ha lasciato tante frasi che ha detto, tante massime che noi possiamo ricordare sia nei momenti più belli della sua vita che anche nei momenti più cupi, quando la malattia al morbo di Parkinson l'ha completamente avvolto. Un grande campione che ci ha lasciato l'insegnamento più bello, quello di farsi vedere in una condizione di salute in cui non sembrava invincibile, eppure lui con il suo tremore è andato lì a reggere la fiaccola delle Olimpiadi. Ci ha lasciato una frase bellissima che oggi voglio ricordare per entrare poi nel vivo del nostro argomento. Chi non è abbastanza coraggioso ad assumersi le proprie responsabilità non compirà niente nella vita. Ecco il coraggio, più volte richiamato anche dai nostri eroi siciliani Falcone Borsellino. Il coraggio e la paura. Ed è quello che è accaduto anche nelle ultime ore rispetto a questa vicenda tragica, veramente difficile anche da raccontare e da ricordare, quella della morte di Sara, questa giovane di 22 anni che aveva detto basta ad una storia che non vedeva più come sua, ad un uomo che forse giudicava già troppo violento e pericoloso. E quello che la magistratura ci dice, gli inquirenti ci dicono, è che probabilmente questa donna poteva essere salvata se qualcuno si fosse fermato a soccorrerla. Invece ha vinto l'indifferenza, ha vinto l'egoismo e ha vinto anche la paura di essere travolti da interrogatori, da testimonianze, da pratiche burocratiche. A volte noi crolliamo proprio di fronte alla paura che ci possa succedere o possa avvenire qualcosa più grande di noi e diventa e passa in secondo piano l'idea che invece possiamo essere vicino agli altri, soccorrere, aiutarli. Il fatto che noi possiamo in qualche modo donarci e quindi ogni giorno parliamo, raccontiamo di storie di violenza ma molto spesso non ci rendiamo conto che al di là della retorica che si possa fare su argomenti così vivi e così crudi, poi dovremmo invece cambiare i nostri comportamenti, non abbandonarci appunto a quella cultura dell'indifferenza, fare qualcosa tutti i giorni per cambiare una società che ha perso, questo sì, il senso della comunità. E mi richiamo a un editoriale precedente che avevo fatto proprio su questo giornale legato all'idea che noi abbiamo perso il senso della comunità, che non ci sentiamo partecipi di una comunità dove invece trionfa l'egoismo, trionfa il personalismo, dove tutto viene spettacolarizzato e noi diamo un'immagine diversa da quella che è la nostra e ci preoccupiamo molto di più di apparire e non di essere, al contrario di Cassius Clay.